Ho qui vicino a me appunto Elisabetta Rosi, giudice alla Corte di Cassazione. A lei vorrei chiedere, nell'ultima parte Franca Rame parla della questura, dice no, vado a casa, denuncerò domani, penso ai sorrisini, alle battutine. E io vorrei chiedere appunto a Elisabetta Rosi, è ancora oggi così? È per questo che le donne ancora in Italia comunque stentano a denunciare? Le percentuali di denuncia della violenza maschile sulle donne sono ancora molto basse. Allora innanzitutto buongiorno, grazie di avermi invitata a questo incontro di formazione. Io mi occupo di formazione anche per i giudici su questo tema e quindi per me è veramente un'occasione preziosa perché imparo molte cose. Occorre un approccio multidisciplinare anche per noi naturalmente perché il diritto da solo non basta come non basta per voi solo la comunicazione. La tua domanda Luisa, ma io ho il punto di vista oggi del giudice della Corte di Cassazione che approfitterei qui per dire che non è un terzo grado di giudizio. Cioè il giudice della Cassazione non analizza il fatto, cioè il fatto nella sua durezza come lo ha raccontato ora Franca Rame. Quel fatto viene visto in prima battuta appunto da chi? Dalla polizia, dai carabinieri, oggi per fortuna dagli ospedali che sono molto attrezzati con dei punti di ascolto per le donne che ci vanno. Il giudice di legittimità ha la visione di ciò che è accaduto prima attraverso le sentenze dei giudici di merito. Noi siamo non i giudici del fatto, non esiste in Italia il terzo grado di giudizio. Lo so che lo dicono anche i politici ma il terzo grado di giudizio non esiste. Noi valutiamo che i giudici che hanno esaminato il fatto abbiano applicato giustamente la legge, bene la legge, secondo l'interpretazione che deve essere data. Rispettate le regole del processo penale che prevede garanzie per l'imputato ma oggi grandi garanzie anche per la vittima dopo il ricepimento degli strumenti europei che danno alla vittima dei diritti nell'ambito del processo e analizza che il giudice ci abbia mostrato con una sua motivazione il litter logico che ha seguito per valutare la colpevolezza e per dare quindi una risposta a quel fatto. Questo fa la Corte di Cassazione, non è il giudice del fatto ma è il giudice della sentenza su quel fatto. Quindi questo ci tengo a dirlo perché spesso nei giornali c'è questo equivoco, si legge anche nella stampa, nella televisione. Dicevo, l'impressione che ho io dall'osservatorio della Corte che quindi vede tutta Italia, tutto ciò che accade in Italia è che certamente ci sono molte più denunce di anni fa, cioè non c'è proprio paragone rispetto al passato, rispetto a questi tempi terribili degli anni 70 dove effettivamente le denunce non c'erano perché non c'era una formazione degli operatori, innanzitutto non c'erano sufficientemente secondo me operatori donne all'interno delle questure, nei carabinieri non c'erano proprio all'epoca perché sappiamo che è stata successiva e quindi è chiaro che c'era un approccio, una mentalità che certamente non incentivava la donna a recarsi immediatamente a fare la denuncia. Oggi dal mio punto di vista mi sembra che le cose siano diverse, ci sono, questo certo è da una parte brutto perché ci mostra almeno a livello statistico un incremento dei reati contro le donne, soprattutto dei reati di tipo sessuale che siano essi o meno commessi nell'ambito della violenza domestica, ma comunque c'è un grandissimo incremento dei reati sessuali, io lavoro proprio nella sezione che si occupa di questi reati. Dall'altra parte, quindi non so se rimanga però, e a mio avviso rimane, un numero oscuro che attiene appunto ai fatti precedenti e agli eventi più gravi, perché appunto secondo me alla fine quello che ancora oggi noi scontiamo con questo grande numero di uccisioni di donne e di reati molto gravi, violenze sessuali di gruppo, commesse per anni nei confronti di ragazzine che durano dalla loro adolescenza fino all'età diciamo adulta della giovinezza, io credo che questo sia purtroppo una conseguenza del fatto che ai primi segnali non c'è la possibilità di avere una risposta da parte innanzitutto dei servizi sociali, della società e poi delle forze dell'ordine attraverso strumenti e misure di prevenzione di tipo diverso e anche processi penali per reati di tipo sempre gravi ma non così gravi come magari la violenza sessuale, cioè secondo me l'incremento di questi reati più gravi è conseguenza di una sottovalutazione in fondo e questa sì rispondo alla tua domanda, sottovalutazione del fenomeno che per molti anni c'è stata anche da parte delle forze dell'ordine e poi diciamo per molti anni questi sono stati considerati reati che non contavano, cioè nel senso noi dobbiamo tener conto che le forze dell'ordine hanno delle loro statistiche, delle loro valutazioni fare indagini su questi reati contava meno, ma esattamente come forse sotto un certo punto di vista in questo ci può ancora essere una mentalità retrograda, non è così importante occuparsi di questi reati nel mondo dell'accademia scientifica cioè se voi proponete un convegno a dei professori di università su questo tema lo considerano un tema di nicchia per molti anni anche in magistratura chi si occupava di questi temi o tra gli avvocati credo sia la stessa cosa era considerata una cosa sì ma insomma è più importante fare crimine organizzato o altre materie oggi per fortuna non è più così perché appunto il fatto che questi reati siano reati contro i diritti dell'uomo e per questa diciamo superficialità d'approccio l'Italia comincia ad avere grandi condanne a Strasburgo per i ritardi con i quali è affrontato questo problema il tema diciamo è diventato dal backstage è passato diciamo visivamente e in primo piano però molta strada si deve a mio avviso ancora fare certamente io devo dire dalle nostre sentenze della Cassazione sulle quali facciamo diciamo un'opera di riflessione profonda su questi temi insomma ormai per noi è diventata formazione permanente quella sui temi della violenza contro le donne anche perché lo impone la convenzione di Istanbul la convenzione di Istanbul impone agli stati firmatari di fare formazione a tutti i livelli quindi noi ci siamo diciamo adattati subito e noi facciamo revisione devo dire che dalla lettura di alcune sentenze che ho rivisto anche ieri in occasione di questo incontro di oggi le mostravo prima all'avvocata Manente vedo che la Cassazione fa invece un'opera di grande esattezza culturale e di approccio culturale dopo scivoloni del passato tutti voi ricorderete la sentenza dei jeans del 1999 poi ci fu una sentenza dei jeans opposta che fu fatta che però nessuno ne sa niente perché non faceva più notizia però chi vorrà magari ve la farò avere perché è simpatica da leggere però ecco e qui chiarisco l'equivoco il delitto passionale non è un istituto giuridico assolutamente no no non esiste cioè l'articolo del codice penale che parla di passione è l'articolo 90 dove si dice gli stati emotivi e passionali non hanno alcuna rilevanza lo sintetizzo ovviamente ai fini dell'imputabilità cioè della quello che è la capacità che si deve riconoscere a ciascun autore di un crimine di capire quello che sta facendo quindi diciamo da un punto di vista giuridico la passione va esclusa anzi devo dire ci sono tantissime decisioni ma che partono dagli anni 1990 dove sempre la corte di cassazione in varie situazioni diverse ha affermato che questa gelosia che la gelosia non aveva nessuna rilevanza che era fenomeno di una subcultura questa è una sentenza recentissima che lo riafferma ma l'aveva già affermata in precedenza che non può valere come causa di attenuante ancora meno discriminante perché ovviamente poi questo tema della diciamo virgolette cultura cioè subcultura della gelosia che sarebbe una sorta di corollario dei sentimenti viene oggi declinata dagli avvocati difensori davanti ai giudici ribadisco di merito come una manifestazione di una sorta di cultura diciamo così o etnica o religiosa perché chiaramente oggi noi abbiamo una grande movimento migratorio abbiamo mai dei migranti che vivono danni nel nostro paese quindi all'interno di questi processi spesso venivano evocate queste diverse mentalità culturali questi diversi diciamo modi di vivere la famiglia e la Corte di Cassazione da sempre ha espunto questo vizio di fondo cioè che possa darsi una rilevanza di qualunque genere diminuente, attenuante, discriminante oppure eliminiamo il dolo per i maltrattamenti in famiglia o peraltro alla virgolette cultura delle relazioni tra uomo e donna che derivi da ragioni etniche o religiosi o quant'altro quindi in questo penso che da un punto di vista del diritto la prima cosa che dobbiamo dire il delitto passionale per il mondo del diritto è inesistente quindi se ne parliamo ne parliamo perché ne parlate voi per cui noi non ne parliamo una ringa come quella dell'avvocato Casali Nuovo non la sentiamo più oppure ogni tanto si sente? allora dunque preciso in Corte di Cassazione le arringhe diciamo l'avvocato lo sa perché viene speso non hanno la natura delle arringhe che si tengono davanti ai giudici di merito perché ovviamente soprattutto come quella che credo sia molto datata è vero è molto datata ora è chiaro che davanti alla Corte d'Assise che è composta da due soli magistrati di professione da giudici popolari gli avvocati cercano ovviamente di fare leva su tutte le corde io ho delle reminiscenze dei miei primi anni di carriera dove facevo il pubblico ministero all'epoca e quindi ho fatto processi di Corte d'Assise quindi è chiaro che lì l'avvocato tocca il PM prima tocca le corde ma ci riesce ovviamente il proprio avvocato perché deve salvare il proprio cliente quindi non escludo in Assise soprattutto una volta credo lo facessero anche molto purtroppo nei tribunali io anche qui ho reminiscenze dei miei primi tempi o in Cassazione dunque innanzitutto di solito l'imputato non c'è quello che molte non sanno è che in Cassazione l'imputato non deve essere presente per cui quasi nessuno viene alcuni a volte si capisce quando siamo lì capiamo che sono forse le persone imputate a volte purtroppo vediamo anche che ci sono delle vittime e quello che noto io e lo dico che queste vittime spesso sono dei bambini che sono nel frattempo cresciuti e che vengono a sentire la parola fine alla loro tragedia ed è una cosa veramente molto triste comunque lì gli avvocati provavano io dico provavano adesso spiego perché a indulgere in particolari che assolutamente in corte di Cassazione per quello che vi spiegavo prima cioè noi non siamo i giudici del fatto noi giudichiamo la sentenza sono assolutamente inutili e ragion per cui almeno nella mia sezione ma mi è stato riferito anche in altre prima di iniziare l'udienza pubblica si fa un avvertimento ai difensori e anche ai consiglieri relatori che fanno la relazione e anche al procuratore generale pregandoli di non indugiare a ragione della natura del giudizio di Cassazione su particolari del fatto che non hanno nulla di rilevante rispetto all'esame del ricorso e che non violano tra l'altro il diritto di privacy perché ovviamente l'udienza è pubblica sia degli imputati sia delle persone offese e devo dire che dopo questo avviso un pochino diciamo si sono c'è nei ricorsi iscritti si leggono a volte queste cose un po' romanzate in cui si cerca appunto di presentare la vittima come in verità una calcolatrice come in verità una persona che non ha detto il vero però attenzione anche su questo la giurisprudenza in materia di valutazione delle dichiarazioni della vittima è consolidata cioè nel senso che anche le dichiarazioni della vittima da sola sono idonee a fondare un giudizio di responsabilità sempre che il giudice che motiva su queste dichiarazioni fornisca elementi chiari in ordine alla sua credibilità e alla sua attendibilità intrinseca cioè intrinseca del suo racconto ed estrinseca cioè relativa a fatti marginali rispetto ai fatti di reato che sono percosse violenze sessuali che quando avvengono è raro che possano avvenire alla presenza di altre persone possono anche avvenire alla presenza di bambini quelle domestiche ma ovviamente una violenza sessuale di notte in un'auto testimoni non ce ne sono ma ovviamente questa attendibilità estrinseca è sempre fatta da riscontri di tipo diverso che il giudice ha valutato nel contraddittorio durante il processo o comunque sempre nel contraddittorio anche se si scelgono dei riti alternativi perché ovviamente essendo ormai questi reati puniti con pene molto elevate mi riferisco ai reati di violenza sessuale oggi molti scelgono il rito abbreviato quindi il dibattimento col controesame della vittima non si fa si fa di solito un incidente probatorio e quindi si incardina la prova attraverso un esame che quando è minore è filtrato dal giudice dal GIP quindi se il giudice dà questa motivazione chiara di questa sua valutazione anche la sola dichiarazione della vittima ha valore probatorio e questo è un principio che noi abbiamo affermato in Cassazione ripeto da anni ormai è consolidato e credo che insomma debba essere ritenuto valido perché insomma c'è stato un tempo in cui ovviamente si cercava di dire che la vittima era una sorta di correo perché per i correi il famoso coimputato sono necessari riscontri quindi c'erano tempi nei quali si diceva non c'è riscontro alle dichiarazioni della vittima ma ovviamente i reati che non hanno testimoni questi riscontri del fatto nel momento in cui avviene non possono esserci perché sono fatti che non avvengono certamente in pubblico anche se ovviamente adesso ci sono metodologie d'indagine che consentono anche di registrare fenomeni di abusi di violenze e di quant'altro lo sapete meglio di me grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.